C'è un'importante novità sul piano della viabilità con una notizia che è davvero epocale. Assolutamente importante, soprattutto per quanto riguarda la viabilità in Val Vibrata. Tornerà all'ANAS la statale 259, l'arteria più importante della Val Vibrata, parte da Sant'Egidio alla Vibrata e arriva fino al mare. In questi giorni sono in corso i lavori di manutenzione da parte della provincia con la realizzazione di importanti rotatori e punti luce, regimentazione delle acque. A seguito e sul finire di questi lavori la strada sarà riconsegnata all'ANAS. Una strategia importante per quanto riguarda la manutenzione della nostra viabilità. Ringrazio il Presidente D'Alfonso e il Presidente Di Sabatino che tanto si sono impegnati per raggiungere questo risultato fondamentale per la viabilità della Val Vibrata. Il ritorno all'ANAS significa anche una riprogettazione della 259? Ma soprattutto significa una manutenzione costante e accurata da parte dell'ANAS così come fa per tante altre strade della nostra provincia e della nostra regione.